Maggi ciao amici e benvenuti perché sono qui per chiudere il definitivamente il quiz e la votazione il referendum che è stato chiuso già un mese fa e quindi sono qui per dare gli scrutini votazioni allora vince il no magicolo devo abbandonare il canale la risposta è stata no incredibile un po il contrario incredibile ragazzi avete votato no col 52 per cento ragazzi lo vedete adesso lo vedete più lo vedete grazie 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 amici ma